Sono pericolosa perché sono una donna che sa, una donna che può cambiare le sorti dei potenti e poi sono esule in terra straniera. 5 agosto, Medea allo specchio, anfiteatro Rastat, 21 e 30. 5 donne in scena per una sola Medea, quali sfaccettature della potenzialità femminile in chiave contemporanea, parte il conto alla rovescia per Medea allo specchio, lo spettacolo che giovedì 5 agosto alle 21 e 30 andrà in scena l'anfiteatro Rastat. L'evento fa parte della programmazione Elucevan le stelle, promossa dal comune di Fano e dalla Proloco. Il testo, ispirato alla tragedia della Medea di Euripide, mette in scena 5 donne, ognuna delle quali interpreta alternandoli i principali ruoli femminili dell'opera classica. Unica presenza maschile sul palco sarà quella di un Giasone statico, ottuso perché incapace di comprendere e comunicare veramente con la donna, se non come mezzo per ottenere potere sociale. Sotto la regia di Lucilla Monaco un cast di tutte donne, Aurora Lesi, Elisa Pavoni, Flavia Catena, Giulia Burroni e la stessa Lucilla Monaco con la partecipazione di Mariella Braccialini, ospite di Casa Serena. Poi ci sarà Daniele Cecconi nel ruolo di Giasone. Chi volesse partecipare può acquistare il biglietto su live-ticket.it oppure direttamente al botteghino dell'anfiteatro Rastat fino ad esaurimento dei posti disponibili che sono stimabili in 330. L'insegna della ricerca e dell'interpretazione di una tragedia greca che porterà in scena ben cinque Medea con un Giasone, quindi cinque sfaccettature della complessità, della personalità, dei talenti e delle potenzialità femminili in chiave contemporanea. Uno spettacolo che si avvarrà anche di una presenza importante che è quella di Mirella, di Casa Serena ed è uno spettacolo che noi abbiamo costruito in continuità con il percorso avviato con impronte femminili e teatro in faccia.